Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City, in apertura all'emergenza sanitaria con la battuta d'arresto alla campagna di vaccinazione in Campania, un ritardo considerevole da attribuire alla carenza ai dosi di Pfizer. Passiamo ora al maxi blitz dei carabinieri nel parco verde di Caivano, nota piazza di spaccio, 49 gli arresti. Buone notizie invece d'Ercolano con l'inaugurazione del centro antiviolenza Annabella Cozzolino, venerdì al taglio del nastro anche il ministro Bonetti. Ancora caos rifiuti invece a Torre del Greco, con le strade e la città come quasi ogni lunedì invase da sacchetti di ogni tipo. In conclusione la Turis colpotta e risposta fra società e istituzioni comunali sulla vertenza Stadio Liguori. Questo ed altro nei nostri servizi. Rallenta la campagna vaccinale in Campania. Stop alla campagna vaccinale in Campania, le dosi di vaccino, in particolare Pfizer, sono terminate andando a ridurre fortemente la mole di vaccini giornalieri, costringendo anche alcuni tra i maggiori hub di vaccinazioni, tra cui quello della mostra d'oltremare, alla sospensione momentanea, in attesa che nella giornata di mercoledì da Roma arrivino nuove forniture di vaccino. Avendo esaurito le scorte di vaccino Pfizer e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali della mostra d'oltremare Eranga-Ratitec. Queste le parole del direttore dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, che fa sapere attraverso una comunicazione ufficiale che lo stop avrà luogo per la totale assenza di dosi a mRNA. La sola ASL Napoli 1 Centro, spiega il direttore generale Ciro Verdoliva, garantisce in media la somministrazione di 12.000 dosi al giorno, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento del target quotidiano di 48.200 dosi al giorno assegnate alla nostra regione da parte del commissario straordinario di governo. È evidente che questo stop avrà conseguenze importanti sull'andamento della campagna vaccinale in Campania. Nei prossimi giorni, quindi, almeno fino alle 14 di mercoledì, sarà garantita la somministrazione per mezzo a AstraZeneca e, ove possibile, Moderna. Proprio nelle scorse ore, il governatore Campano De Luca, nel corso di un intervento nella trasmissione mezz'ora in più, torna a far polemica con il governo in materia di attribuzioni dei fondi del PNRR al Sud e distribuzione dei vaccini. Non credo che ci sia una grande sensibilità per il Sud nel governo, al di là delle parole, ha aggiunto il presidente dell'Aggiunta regionale Campana. E devo ricordare, ha aggiunto De Luca, che ogni cittadino della Campania riceve per sanità 30 euro in meno di uno della Lombardia e 40 in meno di uno del Lazio. Vincenzo De Luca ha poi concluso, il Sud riceverà ancora meno del 40% previsto nel recovery plan, perché, per arrivare al 40%, hanno inserito risorse dei fondi già destinati al Sud. Ancora uno stop alla campagna vaccinale, che proprio nella scorsa settimana aveva toccato soglia 2 milioni di dosi inoculate. Un fermo che risulterà senz'altro pesante sul proseguio delle vaccinazioni da Covid-19. Duro colpo al traffico di droga nel Parco Verde, una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa. Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli eseguono 49 misure cautelari. Tra i sodali, guadagni fino a 130 euro mensili. Dalle prime luci dell'alba nel comune di Caevano, nella provincia napoletana, in quelle di Bergamo, Isernia, Imperia, Benevento, Cosenza, Forlice, Sene e Caserta, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, supportati dai comandi armaterritorialmente competenti, stanno dando esecuzione ad una misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 49 soggetti ritenuti vicini al clan Sautociccarelli e gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Le indagini condotte dai militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e coordinate dalla DDA Partenopea hanno inflitto un duro colpo al traffico di stupefacenti nel Parco Verde di Caevano, una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa, attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. È stata altresì ricostruita l'organizzazione e l'operatività delle suddette piazze di spaccio, definendo ruoli e responsabilità degli indagati. In poche centinaia di metri difesi da porte blindate e cancelli per eludere i controlli delle forze dell'ordine sono stati individuati e monitorati ben 14 punti vendita in cui veniva smerciato lo stupefacente a clienti provenienti da tutta la regione. Documentato anche il flusso di denaro che, complice all'attività senza sosta delle piazze di spaccio, consentiva enormi guadagni esodali. Tra gli elementi apicali del clan, infatti, c'era qualcuno che poteva superare anche un guadagno di 130 mila euro mensili. Inaugurato ad Ercolano il centro antiviolenza Annabella Cozzolino, taglio del nastro affidato alla ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, insieme al sindaco Ciro Bonaiuto. Il centro antiviolenza è un servizio di aiuto a tutte le donne vittime di violenza o che hanno subito qualsiasi forma di discriminazione. Un supporto ad un nuovo tipo di vita, libero e sereno. Il centro è un servizio pubblico offerto nell'ambito sociale del comune di Ercolano e si trova nei locali di via Marconi 39. La ministra Bonetti, nel corso della sua permanenza in città, ha avuto la possibilità anche di visitare la prima ludoteca comunale, riservata ai bambini dai 18 ai 36 mesi, collocata presso la scuola materna di via Marconi e che ospita fino a 25 bambini. Una comunità che sa stare accanto alle donne, che sa denunciare la fatica, la ferite della violenza, ma soprattutto offrire alle donne un'opportunità per ritornare ad essere protagoniste, libere della loro vita. Ecco, ripartire dall'educazione, ripartire dal lavoro femminile, ripartire dai legami di comunità significa rappresentare di nuovo quella bellezza straordinaria che questo luogo ha saputo interpretare nei secoli e di cui oggi è veramente il volto migliore. Dobbiamo provare a prevenire la violenza sulle donne perché ad Ercolano, come in tante città del Mezzogiorno, spesso non viene percepito come tale il comportamento di subordinazione psicologica che le donne hanno dagli uomini. Aprire un centro antiviolenza ha un significato anche simbolico. Noi diamo la possibilità a tante donne di provare a cercare un lavoro, anche saltuario, perché hanno la possibilità qui di tenere i propri figli. Quindi significa stare accanto alle donne, stare accanto alle famiglie e soprattutto cercare di far sviluppare Ercolano intorno al lavoro. Il centro antiviolenza Annabella Cozzolino è intitolato Una Donna Libera e Forte, promotrice di iniziative indimenticabili come la creazione del primo sportello rosa d'Ercolano a metà degli anni 90 per accompagnare le donne vittime di abusi e violenze. Per sfondare i confini della paura è necessario, diceva, uno spazio d'ascolto e di sostegno, di promozione e di percorsi anche sul versante del collocamento nel mondo del lavoro. Strumenti fondamentali per evitare che abusi e violenze possano sfociare in tragedie e femminicidi. Una coscienza anticipatrice, mossa da una naturale vocazione pedagogica e una rara sensibilità per le sofferenze dei soggetti più deboli, fragili, vulnerabili della comunità ercolanese, da lei individuati, nei bambini, nelle bambine e nelle donne. Il riconoscimento postumo credo fondamentalmente meritato, perché quella che noi in famiglia chiamiamo la nostra esistente scomparso, che era una bella vozzolino, in qualche modo è stata un'antesignata, una coscienza anticipatrice. Già all'epoca di sportello rosa aveva in qualche modo intravisto quello che lei chiamava i processi di ridicolizzazione, volgarizzazione e banalizzazione della violenza contro le donne e anche i prodromi della colpevolizzazione delle vittime, degli abusi e dei mostratamenti sessuali. Quindi credo che fondamentalmente sia meritato. Ancora rifiuti per le strade di Torre del Greco. Come ogni lunedì mattina ormai la città risulta invasa dei rifiuti. Cassonetti straripanti, sacchetti abbandonati sui marciapiedi, cumuli che arrivano ad occupare strade e vicoli. Con le nostre telecamere abbiamo mostrato la situazione di degrado che regna in zona Porto, fra via Fontana e Corso Garibaldi. Tuttavia, dalle segnalazioni dei torresi risultano situazioni simili in tutta la città e soprattutto nel centro storico. In un post su Facebook il consigliere Luigi Mele ha ricordato che nella giornata di ieri si conferiva solo l'umido e la carta, puntando il dito contro i torresi per aver gettato anche sacchetti indifferenziata. Infatti la maggior parte dei rifiuti non raccolti sono composti da sacchetti immondizia di ogni tipo, quindi probabilmente sono stati tanti i cittadini che non hanno rispettato i giorni instabiliti. Figurano come al solito ingombranti come scarti di ufficio, mobili ovario e immancabili materassi abbandonati. Tuttavia fra questi c'è anche tanta carta e sacchetti di umido evidenti, ad esempio cartoni di pizza, talvolta persino pieni ben visibili. Parte di questa situazione ovviamente colpa dell'inciviltà, ma è indecoroso che la città resti sporca fino alla tarda mattinata, anche considerando il caldo di questi giorni che porta i rifiuti a rilasciare salazioni nocive per tutti gli abitanti. Una cartolina che le aree storiche della nostra città non meritano. Basta considerare che molti cumuli campeggiano proprio davanti al Palazzo Baronale. Ricordiamo che tale situazione si ripete quasi ogni lunedì mattina. Inoltre, pur volendo attribuire tutte le colpe all'inciviltà, a maggior ragione è necessario disporre un sistema di controllo valido che inibisca definitivamente questi comportamenti. Lo stadio americo Liguori ritorna al centro del dibattito tra la Turris e il comune di Tore del Greco. Non è mistero infatti che dietro la volontà del patrocolo Antonio di mettere in vendita la società fino al prossimo 15 giugno ci sia anche la situazione relativa all'impianto di Viale Ungheria. Nelle scorse ore è andata in scena un vero e proprio botta e risposta tra la dirigenza e le istituzioni della città corallina. Tutto parte dalla lettera firma di Gaetano Fruglio, presidente del Consiglio Comunale Editore del Greco, e l'indirizzata al presidente Colantonio. Ti scrivo per dirti quanto mi dispiace aver appreso che sei intenzionato a lasciare la guida della Turris, scrive Fruglio. Spero con tutto me stesso che ciò non accada e che insieme potremo ancora gioire per i nuovi e più ambiziosi traguardi a cui la nostra amata vorrà ambire. Sullo stadio aggiunge, se dovessi lasciare la società ti chiedo di tranquillizzare i tifosi riguardo l'utilizzo dello storico stadio americo Liguri perché questo è sempre stato la casa della squadra e continuerà ad esserlo. Tempestiva la replica di Colantonio, da presidente della Turris afferma, ti devo però far notare che non posso raccontare a chi può essere interessato ad acquistare la Turris aria fritta. Sicuramente valuterò le persone in base al progetto ma ciò che mi preoccupa sono le cose che competono all'ente che ancora oggi, a distanza di un anno, non sono state tutte realizzate. Infine la richiesta è in vista della prossima stagione. Ti chiedo se hai nelle tue possibilità di far redigere perlomeno gli atti che servono alla Turris all'iscrizione anzitempo al campionato prossimo in modo da evitare che tutto possa ripetersi come l'anno scorso senza perderci in chiacchiere e promesse. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.